L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. La Polizia di Stato ha sospeso le attività esercitate in un pubblico esercizio del Centro Storico di Salerno per 15 giorni, in quanto da un controllo è emerso che il titolare, nonostante fosse stato già più volte sanzionato, ha somministrato ad una ragazza di 15 anni un cocktail contenente alcol. Nel dettaglio, il locale aveva già subito una sospensione per 10 giorni lo scorso mese di maggio ed un'altra di pari durata nel successivo mese di luglio, sempre perché il personale era stato colto nell'atto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Il provvedimento del questore è stato emesso anche nell'ottica di una campagna di educazione alla legalità dei giovani, che deve riguardare tutti gli ambiti della vita sociale. Solo infondendo nei ragazzi la cultura del rispetto, dell'equilibrio e della moderazione in tutti i risvolti della propria esistenza, ha affermato il questore Conticchio, si può sperare di crescere una generazione sana, con la quale si può immaginare di lottare contro fenomeni di violenza che al giorno d'oggi stanno innalzando in modo deciso il senso di insicurezza dei cittadini. Basti pensare alle violenze contro gli operatori sanitari, ai comportamenti responsabili alla guida dei veicoli o alle risse nei locali pubblici, spesso generate proprio dall'uso smodato di alcol. Per questo, aggiunto il questore, resta fondamentale una fattiva collaborazione da parte di tutti nel segnalare questi episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, anche utilizzando l'applicazione YouPol. Ancora una volta, a poi concluso Conticchio, l'appello è rivolto ai genitori, perché seguono più da vicino i propri figli, segnalando situazioni che li vedano in difficoltà, con la consapevolezza che le istituzioni ci sono e sono pronte ad aiutarli in un compito difficilissimo.